Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo non è un video classico, non è uno dei miei soliti gameplay, è un video per chiedere la vostra attenzione, un video che vi chiedo di guardare e soprattutto di riflettere su quello che dirò. Fra circa un mese, intorno al 26 novembre, il Parlamento europeo rivedrà l'articolo 13, ovvero l'articolo che riguarda alcune note del copyright. In sé il copyright è una cosa ottima perché permette a te content creator di creare un tuo prodotto e non essere plagiato da altri che magari se ne appropriano, lo ricaricano e fanno cose del genere. D'altro canto però, nel caso questo cambiamento dovesse andare in porto, potrebbero peggiorare decisamente. Molto semplicemente, il Parlamento ha già provato a fare una mossa del genere intorno a giugno. Fortunatamente grazie alla quantità di voti raccolti, ciò è stato fermato e c'è un'altra petizione in corso per fermare questo nuovo tentativo del governo europeo e ovviamente ve lo lascerei in descrizione e se vi va fateci un salto e firmate. In che cosa consiste questa modifica dell'articolo 13? In poche parole non si vuole altro che tutelare maggiormente i creatori dei contenuti e questo in sé ovviamente è un bene, è giusto che chi fa un prodotto ne ottenga anche gli introiti, l'attenzione, il merito e tutt'altro. Però rischiamo che internet collassi, che l'internet che noi conosciamo oggi così com'è cambi totalmente. Perché? Per quello che ho capito e che ho pensato e che sono riuscito a capire alla fine di testa mia ecco, è che se questo sistema dovesse cambiare internet per come lo conosciamo non diventerà più il posto open source, il posto libero dove ognuno può dire la sua, caricare quello che vuole e esprimere la propria opinione. Ma diventerà un po' come la televisione, un posto completamente controllato dove ci sono delle linee che devi rispettare e soprattutto un posto in cui devi essere controllato per essere ritenuto idoneo. YouTube ha già fatto diciamo degli algoritmi e un nuovo sistema automatizzato per verificare che i video caricati siano diciamo di natura family friendly perché ormai è così. E infatti si sono visti, molti youtuber ne hanno risentito soprattutto per chi fa questo come lavoro, le visualizzazioni sono calate, gli introiti sono calati a picco perché ci sono sempre meno aziende che vogliono investire i propri soldi in quello che è stato dipinto come un luogo pieno di elementi scurrili, non educativi e spesso anche razzisti. E ci sta per carità, bisogna proteggere come bisogna proteggere i bambini, ma i bambini per esempio dovrebbero essere protetti dai genitori, non da YouTube che deve tramite dei algoritmi che a volte neanche funzionano andare a mettere i bastoni fra le ruote ai content creator, quelli che magari fanno YouTube come lavoro. Quello che abbiamo visto è una piccola parte di quello che potrebbe accadere se questo nuovo articolo 13 andasse in porto perché per farla semplice ogni foto, video, audio, creazione, sito, link, qualsiasi cosa che si trovi su internet e soprattutto nei siti ovviamente famosi come può essere YouTube dovranno essere verificati che siano a norma. Ovvero bisognerà verificare che i contenuti che ci sono all'interno del video siano di proprietà del creatore del video stesso. Per esempio i video reaction moriranno perché che faccia piacere o meno questo e il format prevede di vedere il prodotto di qualcun altro e reagire. Questo non sarebbe mai mai ammesso col nuovo articolo 13 ma soprattutto in un ambiente come internet in cui tutti sono liberi di comunicare con tutti, tutti sono liberi di dare il proprio feedback, i propri prodotti al mondo intero, tutti ne risentirebbero perché l'Europa finirebbe per essere proprio a sé, divisa dal mondo intero, con censure ovunque, con la possibilità di non riuscire più a vedere link esterni all'Unione Europea, non vedere più video, blog, siti, informazione, niente. Ed è una cosa gravissima non solo per chi fa questo come lavoro come ho detto ma anche per noi in primis perché saremmo veramente rinchiusi in una bolla di vetro senza possibilità di poter uscire. Certo magari ci saranno i modi tipo cambiare VPN e tutte queste cose ma uno deve veramente complicarsi la vita per poter vivere a contatto con tutti. Internet è nato come un posto libero in cui ognuno può esprimersi perché deve diventare come la televisione perché bisogna togliere questa libertà. Io penso che nel Parlamento quelli che stanno proponendo ciò sono semplicemente persone magari indignate per i meme perché è tutto nato dai meme e che purtroppo non sono utilizzatori di internet tanto quanto lo siamo noi e pertanto non potendo comprendere l'importanza della libertà di espressione, l'importanza della libertà su YouTube e l'importanza dell'essere così aperti col mondo intero. Se io avesse un sito internet dove parli in inglese perché voglio connettermi col mondo, essendo nell'Unione Europea questo mio sito si è ritenuto non idoneo, non in regola con l'articolo 13, verrà censurato. Quando vorrò pubblicare una foto il sito host della foto che può essere Facebook, può essere Instagram o chi sia sia, teoricamente dovrà verificare che il prodotto sia idoneo. Voi vedete YouTube quante volte categorizza male i video oppure dice che non sono idonei quando non c'è niente che non sia idoneo? Avete presente cosa vuol dire fare una cosa ancora 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 più meticolosa per YouTube dove vengono caricati ogni minuto centinaia di migliaia di ore di video? Cioè ci rendiamo conto? Com'è possibile che YouTube possa fare una cosa del genere? Qua servirebbe che queste proposte, questi tipi di proposte venissero fatte da chi in internet ci vive, da chi sa come funziona e da chi sa che cosa davvero necessita internet. Purtroppo questo è più facile da dirsi perché ci vorrebbe veramente una persona che ha sia conoscenze in quanto a politica e tutto quello che richiede essere in un parlamento, sia una persona che vive costantemente in internet e sa quali sono i problemi. Ci vorrebbe una persona onnisciente che conosce tutto, che ovunque sa tutto ed è impossibile. Perciò quello che io posso dirvi è, secondo me questo articolo non deve passare e per questo vi chiedo di andare in descrizione, aprire il link e andare a firmare la petizione. Cerchiamo ancora una volta di salvare internet da questo enorme problema perché veramente internet per come lo conosciamo oggi potrebbe cambiare totalmente e non in positivo. C'è poco tempo, avevo bisogno di fare questo video, comunicarlo con quelli che lo vedranno e soprattutto di chiedere anche il vostro aiuto. Io ho firmato, e tu? Ciao! 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 Ciao!